Ridateci il nostro lavoro! Siamo i 29 licenziati di All Music del gruppo Espresso. Chiediamo all'ingegner De Benedetti di ridarci il nostro lavoro! Ingegner De Benedetti di ridarci il nostro lavoro! Siamo i 29 licenziati di ridarci il nostro lavoro! De Benedetti, buone parole e cattive azioni! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!